Eccoci qua, bentornati a tutti quanti su Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, anzi Maratona Nazlock dove riviveremo tutti i giochi Pokémon che ci andranno a noi, perché effettivamente non stiamo seguendo l'ordine effettivo ma quelli che ci piacciono a noi in Nazrock. L'altra volta abbiamo perso purtroppo un commilitone nelle mie parti vediamo se ce lo dice nel riassunto, no non ce lo dice, ah no, cosa? No non te lo dice infatti, ma andremo avanti lo stesso abbiamo altri 6 Pokémon in squadra e ce la possiamo fare, quindi noi dovremmo andare da cosa? Da Elite Surge per forza, c'è rimasto lui a che livello è Elite Surge? una 24 24 più o meno scusa, a che livello era quello che tu hai affrontato? eh, ma aspetta, ma affronto il secondo aspetta che ancora non ho imparato a tagliare nessuno, però fermo allora questo, ok, vediamo un attimo lui mi dispiace, mi sa che tu sarai quella a cui darò tutte le MN a te cazzo 21 ce l'ha quell'altro, quindi più o meno eh sì, sarà quasi verso i 28 i cosi c'hanno tipo un po' di più di quelli che c'hanno sotto, quindi allora iniziamo io ho Graveler, ok il primo marinaio manda in campo Pikachu io vado di Magnitude li fa doppio team e io mi attacco al cazzo, Magnitude 4 colpite invece eh sì, vediamo lui pure 23 quindi sì, sarà 25 26 Magnitude 7 battuto e Ningguang sarà a livello 29 morte un po' di rotolamento sì oh, rotolamento cazzo oddio, partiamo il tempo che ci metto e trovo i lucchetti qua ma ci stanno? se parli con quelli lì te lo dicono loro dove stanno io vi posso tagliare a fare rotolamento azione niente, sei richiuso? sì dai taglio azione e vai a dire rotolamento ogni tanto te, fallo tentennare al nemico quando fai sassata con il tuo diritto e la fa ok ti l'hai fatta? eh no perchè partendo sta sempre vicino solo che abbiamo sempre la parte sbagliata quindi tu lo sai che l'hai aperto e te ne sei andato vuol dire che dopo lo devi rifare, sì o no? no ormai ho aperto mh you are sure? non lo vedo no ok l'hai aperto e basta l'hai sbloccato va bene tutto fuoco ok e mo lo sarà a destra o a sinistra o davanti secondo luca madonna subito quindi moriremo contro l'issugge vada di ehm beh oddio ti ho detto il livello deve essere quello non più altro vabbè ci provo questi cavoli ok a tre pokemon eh beh il primo 21 quanto può arrivare all'ultimo? 35 e poi troppo è andato via guardate quel calo di sonic boom che toglie sempre addirittura Pikachu è sceso del livello 18 e quindi magnitudo l'ha proprio spazzato via Raiju 24 fa doppio team ti ho caso però 7 mamma mia grazie per l'era è proprio una bestia e sale pure al livello 30 da shock ok vediamo chi me lo può imparare da shock se me lo può imparare da shock madonna mi impari ma io impara onda shock pure merda impara onda shock così diventa un pikachu praticamente si è un topo calcola radicate di la mi ha imparato più sull'acqua tutto perché me mi è scappato pikachu io lo farei eccolo qui ciao ti ricordi di me che sono l'assistenza del professor l'acqua come primo bello splotto lo cambio e metto oddio ok il primo è la sagra dell'erba qua la sagra dell'erba sembra brutta detta così c'è Bob Marley ma vende questa che devo fare io vai pollo fifo vai di raffio e pollo fifo al 21 ma è proprio ci stanno tutti qua l'ortaccio sono avvelenato raga che palle ci riuscirà a tornare indietro ma no questo è l'antidoto che me l'ho preso e se poi non sono un coglione che invece di fagli è la figa gli faccio attacco rapido vabbè vabbè andiamo a vedere un attimo niente il buon coda dirlo spiro spiro per fermo oh tu Eganz Eganz e io ti avevi perso per prima me l'ha sfuggito puoi scegliere se prenderlo o no non avevamo detto per i morti era così pure per quelli che l'ha sfuggito dici di tu possiamo proprio per quelli che l'ha sfuggito se non ti interessa diciamo amen vabbè lo prendo dai tanto mi pare qua più o meno ci stanno questi qua sempre non mi pare e se tu c'è Gaganz e io che c'erano qua e oddio l'equivalente era Sandshue ma io Sandshue già l'ho preso eh aspetta tu quindi infatti infatti ora faccio pure un giro non vorrei che magari siamo finiti qua se no te giochi se c'è sta che ne so un'acqua o qualcosa te giochi poi una pesca magari nel percorso 9 un orsi te escono fuori non è detto eh ma quello lo dovevi giocare dopo ma non credo che questo poi percorso 9 fino all'acqua vabbè io Egan se l'ho preso come lo chiamamo serve verde c'è Andrew c'è Andrew c'è Andrew infatti eeeh no lo so vediamo se c'è sta erba se no se ti prendo un torpione aspetta aspetta te poi prende lui no fermate fermate te potevi prende volendo spiro e te lo andavi a scambiare che avevi detto per farfetch no? ma ce l'ho già uno spiro eh si però uno te lo tieni uno te lo scambi per farfetch ah dici vabbè non è che no ma non mi interessa e no voglio vedere una cosa aspetta zaino mappa usage percorso 9 il tunnel roccioso è percorso 10 quindi l'acqua sta al tunnel roccioso c'è un pio mosche cazzo che vaffanculo però ce la vede col pollo vivo eh? oh oddio se volve mercipolla 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 dameo ventispecie ce l'abbiamo predastante non ci faccio niente però vabbè dammela che cosa piedastante ah piedastante vabbè sai che io non ce l'ho ventispecie invece io calcolando le evoluzioni proprio pelo pelo se no chi c'aveva ah percorso 10 tu te lo tieni per l'acqua? no no mo me lo faccio credo tanto se so doppioni so doppioni cioè ne li prendo e via e so tutti doppioni vediamo e nessuno ancora ma fammi vedere ne sa che c'ho la sensazione la vaghissima sensazione buono voltro buonissimo eh sì c'è sta lui lo schiavo dell'MT e io mi sa che prendo voltroba e io la metto a voltroba tanto che non lo userai mai perchè voltroba non impara mosse elettriche sì ovviamente no ci attivo tono shock e basta spiro vabbè già ce l'avevo poi eh sì voltroba pure a me allora non metta a me voltro a battere magnemata no perchè poi dopo sarebbero fini di pokemon e elettro cazzo questo qua c'ha antisuono buono io ho catturato voltroba lo chiamo eeeh fake pokeball o solo fake io lo richiamo bolle in onore del bolle che c'ho ma io lo chiamo suono però sonnifero funziona cioè scusa il canto no però il sonnifero si io lo chiamo fake bolle io intanto penso piallo poi il nome ce ne pensavo ok io lo richiamo bolle è tornato il bolle che ci fa compagnia vabbè lui già ce l'avevi si 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 no ma sai che è solo cosa si è solo voltroba ma sai c'era in più davvero tutte e due ho chiuso la 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 pagina quella lì cazzo se no vedi oh basta però mi voglio allenare un attimo nulla no il rischio è lui esatto e' rischio è lui esatto che mo tanto capita pure a me perché tu sai come l'ho chiamato io lui? mi ha suggerito da mia sorella Corona questa è addormentata lo chiami? Ozzy ah pure oh niente ma che c'era pure un Onix catturato subito e diventerà di nuovo Corona anche qui hai preso il pallo ma c'è un po' pure lui mica mi ricordavo mi ricordavo qua già Onix si no Onix già da prima e no qua me lo ricordavo ma ve l'ho visto mi è ritornato in mente che io l'ho catturato la prima volta qua infatti oddio subatteto io sono pure subito effettivamente però è meglio più ah è vero io me lo so tolto subito e quindi nelle altre grotte posso trovare qualcosa di meglio le so via vittoria facile ecco noi lo chiamavo mister muscolo qua un po' meglio oh ad assalto no regà Misha impara pure ad assalto come? piega non lo so ma lo impara la struttura com'era la struttura alare di Misha non gli permette eccolo ho preso il palo ho preso vabbè è meglio perché tanto Onix e noi tutta sta sorta di Pokémon e tanto c'ho già Noelle qua a me usa un attimo Rebellente che qua la gente sta diventando ma se vuoi dire Rebellente non è che lenta negli allenatori no si dicevo Fragile sti Machop che mi stanno intendevo i Machop che stanno poppa come niente questo c'ha Charmander non è voluto oh Pidge ogni volta l'avvelenano incredibile come si chiamava tipo l'unasso e abita quelli là assorbi veleno no magari tipo assorbi veleno si però al contrario lo prende attira veleno si chiama lui esatto aspetta se non sbaglio qua si rinomina così però devi prima sta su sta su ma no ecco il giudice rimastica uno spastico dai ma se può ho lasciato uno perco giuda bello io voglio sapere le mosse che impara bello splatto non sappiamo imparare meno se non è picciotto 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 che poi adesso ci sta il nostro rivale che dobbiamo affrontare la torre stava appena non mi ricordo se lo dovevamo affrontare o era appena dentro e poi se ne andava allora io ricambio il nome di bello schifo perché sarà il sostituto di goku e quindi lui sarà se lo metterebbe pure in merda per un solo il nome nuovo perché deve far far valutare un'onore idea gothen ma merda porta fortuna per quello vabbè oh ci abbiamo il percorso sotto comunque anzi no si chiamerà gothen ss perché super saian adesso che ho voluto ah perché non fa parte ss pensavo no che ne so crede agli spettri si davvero non farmi ridere entra dentro se dici di no devi rispondere in un altro modo chi da ne vado entra dentro ma ride se magna un hunter attenzione qua ci abbiamo due percorsi da fare volendo ma là è solo pesca no beh può sempre pesca poi ci dovrebbe essere a breve namo nuovo ce l'abbiamo lotto invece chi ci abbiamo e lotto c'è un vulpix dovrebbe esserci un growlit non mi ricordo male non è male è un po' come un fuoco così vorrebbe come l'ha fatto a vedere da qua da un chilometro maledetta e io il signore fanculo growlit appunto io so vivo in bel davanti complimenti il doppio sperlo è sempre 5 ne dobbiamo tirare giù perché noi non siamo contenti non mi rifarà boato appunto mi ricambio di nuovo e lui mi rifarà boato di nuovo secucia senza indugio sul secucia metodo 9 e si passa dopo che fa salta la luce ah c'è proprio tutto il mio growlit e vulpix che poi io mi sono nella merda un attimo proprio nel senso di ready che è pure no di di gothen perché il mio gothen è erba growlit o vulpix sono fuoco e se io non riesco addormentarli subito so cazzo eh vabbè mica ti è ciotta però sempre se ci stanno perché ci si è capito tutt'altro ma io mi ricordo che era qua eh lo dovevo controllare allora era il mio del pg ho fatto il giorno di paga perché non si scappa come vulpix oddio che bello a me vulpix che bello che faceva lui in 19 è il mio vogomo preferito di questa ma gli sss no no non dovesse essere in quel senso super saiyan lo catturo con una megaball e l'ho catturato e vulpix si allenava a dire facile vulpix come lo posso chiamare come si chiamava coso perché io lo voglio che kurama no però mi sa che si chiamava lo stesso kurama quello di yu yu akusho eh non mi ricordo io però li tolgo chiamo un cane di fuoco yu kokurama infatti si chiamava lo chiamiamo si lo sa scrive a mano va bene lo chiamavamo entei entei proprio no ma dai come kurama e groly te lo voglio chiamare bobby buffi è un rex vedo che chiamarlo è un cagnolino dai è un rex via cosa dicevano di kurama adesso ne dobbiamo fare il centro qua pokemon in teoria dovremmo incontrarlo prima online rivale perché tanto lui non ci combatte non ci combatte di se solo che gli è morto rattata aspetta non ci combatte di se solo che gli è morto rattata aspetta ehi che fai qui matt i tuoi pokemon non sono morti però li posso sconfiggere in guai com'era non ci combatte dice solo che gli è morto ratt vabbè io a casa lo farò una cosa amichevole ma io mi ricordavo che se ne andavo a prescindere vabbè tu mi mandi cermelion raga non hai capito ancora per artigli si magnetuto 6 e passa la paura execute pezzo erba lo pigiotto non è troppo forte oddio si è un po' troppo forte no pollo vivo vedo che tutti gli attacchi speciali devi fai prendere tutti tutti i malessere tutte le cose ci la pollo vivo è cadabra è psico veleno gli farebbe danno ma non c'è veleno quindi vabbè mi perdano e passa la paura ma sempre manda geridos c'era la magica perché aveva com'era meglio per za ah perché se c'era ripreso attivo me salvo uno shock e l'ho massacrato però onda shock che tu non shock vabbè morto non ho perso neanche un po' come hai messo il tuo pokédex io ho un coupon ma non ho ancora trovato un marvo credo che credo che non ce ne siano più beh meglio che vada un sacco di cose da fare mettiamo in giro cosa bella è che tu non le aspetto su andare non puoi vedere i pokemon spettro qua dentro però se fai mi sembra che c'è un allenatore con tu puoi fare che c'è attacchi i pokemon spettro e li vedi vabbè ma intanto l'aspetto se tu fai quello e poi salutiamo comunque lo devi salire nel livello almeno up è sceso qua tutta la grotta è come un problemino non l'ho calcolato però lo risolviamo così non l'avevo calcolato io posso imparare intanto che fa male a cosa di mitraglialo impari no però se mitragliali me lo impara lui io glielo ammetto mi serve una mossa erba che faccia un po' un po' di danno posso avere il polvere vaffanculo mi parla di mitragliali dentro forza faccio tomba assalto forza segreta io direi che ci possiamo fermare qui ci vediamo in live ma per voi sarà già passata la live ci vediamo con i prossimi video ciao a tutti ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti